Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi correndo. Se mi seguite su Instagram già saprete che la mia grande passione oltre ai videogiochi è la corsa. Infatti nelle storie di IG condivido tutti quanti i miei allenamenti e negli ultimi mesi vi ho resi partecipi di quella che è stata la preparazione per la maratona di Vilnius che ho corso l'8 settembre. Affrontare la distanza regina è sempre un'emozione indescrivibile e da sempre mi sarebbe piaciuto riuscire a parlarvene in video. Ma alla fine però mi fermavo sempre perché qui alla fine si parla di videogiochi e non mi piace tanto andare off topic. Però questa volta ho avuto un'idea geniale, ovvero quella di associare i 42 km al Nintendo DS. Portandomi appresso questo, il podometro, anzi direi il porometro di Walk With Me. Questa improbabile periferica che come vi ho già mostrato nei shorts può essere utilizzata anche con i cani. Come si comporta nel momento in cui si iniziano ad affrontare degli allenamenti più strutturati? È in grado di dare un feedback completo sulle prestazioni in gara? Allora, in questo video ricchissimo scopriremo le risposte a tutte queste domande mentre cercherò di raccontarvi cosa ha significato per me correre questa maratona. Intanto però ringrazio lo sponsor del video di oggi, ovvero l'immancabile Otagi Retro Games e vi invito a supportare il canale con tre semplici gesti. Supportatemi, sopportatemi ma soprattutto, lo sapete, lo sapete, lo sapete, datemi di sordi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Innanzitutto però una premessa necessaria, non prendete questo racconto come dei consigli dati da un professionista. Se un video del genere vi stimolerà a provare ad allenarvi o magari a mettervi un obiettivo importante e stressante come quello della maratona, io ne sarò felicissimo, ma non essendo un professionista non prendetemi come punto di riferimento. Soprattutto con sforzi così intensivi e usuranti, ognuno dovrebbe calibrare sul proprio fisico e le proprie possibilità gli allenamenti. Quindi nel caso vi venisse la malsana idea di correre una maratona, rivolgetevi comunque a dei preparatori atletici che poi vi indirizzeranno anche verso dei nutrizionisti competenti. Ognuno ha il suo fisico che reagisce in modo diverso e se prendete un impegno del genere, fatelo con la massima serietà e consapevolezza perché poi gli infortuni sono sempre dietro l'angolo e vi parlo per esperienza personale. Questa qua non è stata la mia prima maratona ma in realtà la decima che ho corso nell'arco di quasi dieci anni però mi sono anche fermato appunto per degli infortuni e per prepararla seguo una tabella che ormai utilizzo sempre con cui mi trovo molto bene. Sostanzialmente la preparazione è divisa in dodici settimane, ognuna delle quali ha quattro allenamenti al suo interno. Due uscite da circa 50 minuti a ritmo tranquillo anche se questa volta ho aumentato parecchio il chilometraggio e quindi anche il minutaggio di queste uscite. Poi c'è il giovedì l'allenamento dedicato alle ripetute che è un allenamento molto molto faticoso e stancante però super allenante che va messo per forza all'interno di una preparazione del genere e poi invece c'è la domenica che è dedicata ai lunghi, ovvero delle distanze che piano piano progressivamente arrivano a toccare quasi l'interezza della maratona. Nel corso delle settimane le uscite di scarico rimangono sostanzialmente identiche mentre ripetute e lunghi tendono a diventare sempre più impegnative tranne in alcune settimane di scarico pensate per spezzare l'intensità dell'allenamento. E già in questa fase di preparazione ho iniziato a utilizzare WorkWithMe e il suo porometro quindi vi presento un attimo al volo il software. Cambio inquadratura. Ecco questa è la confezione di WorkWithMe, sicuramente l'avrete vista centinaia di volte anche perché è una di quelle periferiche che non ha mai acquisito valore, non è mai diventata rara e molto spesso la svendevano nei cestoni a pochi euro. Diciamo che nelle intenzioni era una periferica magari per l'epoca abbastanza interessante ma che come andremo a vedere ha delle capacità di registrazione molto limitate però insomma per il 2008-2009 si trattava di tecnologia alla fine molto più che accettabile. Sostanzialmente i podometri sono gli stessi che si trovano con il Pokewalker dei remake di seconda generazione di Pokemon non sono associati ai giochi delle creature tascabili quanto piuttosto a questa sorta di software diario software sulla falsa riga di quelli che erano poi i vari Wii Fit, training eccetera eccetera serviva semplicemente a tenere traccia delle tue attività cioè quanto camminavi durante il giorno e in caso ti diceva se avevi un buon ritmo, se raggiungevi i tuoi obiettivi eccetera eccetera in più era possibile sfruttare la connessione di internet che non penso le funzionalità siano ancora accessibili per dei minigiochi anche abbastanza carini dove sostanzialmente si mettevano a confronto i risultati su scala globale in dei grafici semplici ma funzionali e niente c'è il libretto di istruzioni che è gigantesco perché penso 100.000 lingue diverse ma alla fine non è che c'è da spiegare chissà cosa l'unico problema come andremo a vedere è che ha una capacità di registrazione limitata e dopo un tot cancella le attività che non vengono scaricate sul software cerchiamo di capire cosa ci dice nel dettaglio degli allenamenti questo walk with me con il suo porometro come possiamo vedere vengono registrati due semplici parametri ovvero il numero totale di passi fatti durante la giornata e l'intensità dell'attività fisica indicata da quanti passi si compiono al minuto il software poi organizza queste informazioni segnalando quando si raggiungono gli obiettivi giornalieri che possono essere impostati ma di base si attestano intorno ai 3000 passi che credetemi non sono tantissimi e poi dà anche una valutazione sulle proprie abitudini giornaliere io allenandomi di mattina mi sono beccato sempre lo stemma da bradipo mattutino che poi non ho neanche capito se è un complimento o un insulto però vabbè me lo prendo capite da subito che quindi ci troviamo di fronte a un simpatico oggettino da gamification walk with me serve a spronare l'utente a mantenere un generico stile di vita sano associandolo all'immaginario dei miei su cui nintendo puntava tanto in quegli anni una scusa per uscire fuori di casa e camminare per poi registrare il tutto e trasformarlo in delle simpatiche classifiche online se vogliamo è un po' l'antesignano di pokemon go di sicuro però con molto meno appeal è ovvio che se cercate uno strumento che tenga traccia dettagliata dei vostri allenamenti e vi fornisca dati e statistiche in grado di darvi una panoramica completa su qual è il vostro stato di salute ma anche di allenamento non potete fare affidamento su sto robo ma dovete comprarvi dei sistemi gps molto più costosi questi non sono dei contapassi ma utilizzano dei sistemi satellitari avanzati poi dipende pure quanto ci investite e riescono a calcolare con precisione gli spostamenti e sono in grado di fornire statistiche avanzate sul proprio rendimento sulla salute e in alcuni casi anche di fornire dei consigli su come migliorare le prestazioni se vi incastrate su database interpretazione di dati e lettura di dati bellissimo non vi nascondo che è proprio soddisfacente crearsi uno storico di allenamenti su app come garmin connect ad esempio fermi tutti prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video Otoji Retro Games tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming sul catalogo di Otoji che si aggiorna ogni settimana potrete trovare di tutto giochi provenienti da ogni epoca e console dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo è un grandissimo appassionato sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione sono queste le cose che per me fanno la differenza poi se volete liberarvi di qualcosa Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno in descrizione trovate il link al sito mi raccomando guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti prima però di scoprire come si è comportato questo affarino voglio parlarvi della gara stessa innanzitutto vi sarete chiesti perché Vilnius sostanzialmente perché ormai da anni per il mio lavoro da freelance che non c'entra niente con il mondo dei videogiochi collaboro con un'azienda lituana che per questa occasione per la maratona di Vilnius ha messo in piedi un running team a cui avrebbero potuto aderire tutti gli impiegati intenzionati a partecipare a questo evento e io ho colto un po' la palla al balzo utilizzando la maratona come scusa per visitare una città che non avevo mai visto e di cui non sapevo nulla e anche come scusa per conoscere gente con cui lavoro ormai da anni ma che fisicamente non avevo mai visto dal vivo quindi non è una maratona importante come quella di New York non è una maratona partecipata come quella di Roma ma si è trattato di un evento relativamente piccolo con circa 1200 partecipanti però vi devo dire che eventi del genere molto più raccolti per me hanno il loro fascino per esempio durante la gara difficilmente si creano calche, tappi, imbuti dove si è costretti a rallentare nonostante poi molti passaggi fossero proprio stretti ci sono stati soprattutto all'interno del centro storico dei momenti in cui correvamo per delle stradine dove al massimo c'entravano tre persone una accanto all'altra quindi bene per un'affluenza abbastanza contenuta però c'è anche il rovescio della medaglia con situazioni del genere perché questo significa trovarsi sostanzialmente da soli in molti tratti di gara anche perché la prima metà del percorso era condiviso con la 21 km quindi eravamo molto più di 1200 quando però siamo entrati nella seconda metà della gara a quel punto ci si ritrovava da soli o in piccoli gruppetti e questo significa che c'era anche molto meno pubblico a incoraggiarti durante il passaggio e sembrerà una cavolata ma vi assicuro che la partecipazione esterna ti tiene proprio sveglio e motivato a volte ti rincuora proprio soprattutto nei momenti più difficili quelli dal trentesimo chilometro in poi però è anche vero che rispetto a una gara come quella di Roma che ormai sono abituato a correre dove il 90% delle persone che non corre tra il pubblico è incazzata perché è bloccata e non può andare a farsi gli affari suoi a Vilnius tutta la città partecipava mettendoci il cuore pochi ma buoni non chiedetemi perché ma ho battuto il 5 a diverse mascotte improbabili tra cui anche Steve di Minecraft io gli ho detto dai Steve ma non penso abbia capito poi la 5 km la corsa pure Luigi ma vi dirò non mi sembrava informissima poi non so se avete mai corso una maratona ma almeno per me è sempre una grandissima emozione ma in realtà si tratta di un sentimento che durante la preparazione e nei minuti prima dell'inizio della gara è proprio stress stress puro a me una delle cose che mette più ansia in assoluto è non conoscere il percorso perché su distanze così impegnative ho bisogno di sapere se ci sono salite, quanto sono impegnative, dove sono posizionate il tutto per capire come gestire al meglio le energie durante il tragitto avevo letto su internet che il percorso doveva essere relativamente piatto ed ero felicissimo perché il mio primo pensiero è stato che bello finalmente correrò una gara che a differenza di Roma non è un continuo sali e scendi mai fidarsi di quello che si legge su internet e appena sono arrivato a Vignus mi è preso un colpo perché sostanzialmente la città è su un colle ed è tutta in pendenza ma in più c'è proprio una cosa assurda nella prima metà del percorso anzi all'interno dei primi 10 km c'erano due salite ma no spezzagambe di più due salite che forse pure nel percorso di Roma non ci sono dei corrispettivi così impegnativi sono stati dei detratti in cui ho avuto veramente paura non tanto per quando le corri ma per il pensiero del devo correre altri 30 km e questa salita mi ha spompato fortunatamente ho imparato a gestire più o meno le energie e quindi le ho affrontate con molta concentrazione però vi devo dire che verso la fine della gara al 38esimo e al 39esimo ho incontrato due salite che mi sono rifiutato categoricamente di correre e ho preferito camminarle però l'ho fatto in un'ottica di risparmio delle energie e questo mi ha consentito poi dopo il 39esimo chilometro di correre gli ultimi 3 km a un buon ritmo un ritmo anche sostenuto insomma è come se avessi risparmiato qualcosina per non finire completamente le energie ed avere ancora quella riserva per correre dignitosamente gli ultimi 3 km e arrivare all'arrivo insomma in positivo tanto che poi come vedremo il risultato è stato molto buono per i miei standard e poi tenete a mente pure questa cosa che magari vi tornerà utile se mai deciderete di preparare una maratona correre una gara a inizio settembre significa impegnarsi emotivamente e mentalmente tutta l'estate io mi sono ritrovato a fare l'ultimo lunghissimo quello più impegnativo in assoluto nella settimana di ferragosto questo significa non solo affrontare degli allenamenti molto impegnativi con delle temperature fuori scala in particolare quest'anno ma in più anche sapere di doversi impegnare in degli allenamenti che non sono assolutamente semplici in un periodo che dovrebbe essere di relax insomma ho fatto delle vacanze che sono state ancora più stancanti di quelle che poi sono le mie giornate lavorative quindi tenete a mente questa cosa magari se vi dovete correre la prima maratona non fatelo a settembre perché la preparazione potrebbe scioccarvi a vita sei pronto? no quindi come testimoniano i documenti video catturati da Shigeru Gachioppo prima della partenza ero molto molto agitato anche un po' una cosa caratteriale e insomma ero abbastanza teso però vi devo dire la verità c'è un motivo se uno si prende un accollo infinito come questo e affronta una sfida del genere per me entrare in griglia è una sorta di esperienza mistica e sento proprio che scatta qualcosa perché tutta l'ansia e tutto lo stress si trasformano in concentrazione e i minuti prima del via per me sono adrenalina allo stato puro ma è un'adrenalina molto particolare perché come ho detto è in realtà concentrazione e determinazione perché è quello il momento in cui bisogna essere presenti a se stessi e pensare va bene sei qui ti aspettano almeno tre ore difficili ce la puoi fare ma ci devi stare con la testa e poi vi devo anche dire che mentre ero in griglia è partito l'inno lituano e non lo so l'idea di trovarmi lì in un contesto diverso in una cultura che non conosco per niente non lo so mi ha fatto sentire molto piccolo e viaggiare è una di quelle esperienze che comunque anche in età adulta ti fanno mettere in prospettiva un po' tutta quanta la tua vita un po' tutte le tue esperienze e non lo so vabbè sono un po' un piagnone però io in quel momento mi sono molto commosso detto questo come è andata sta gara e come si è comportato il nintendo ds beh partiamo dalle buone notizie la gara è andata benissimo e sono riuscito a fare il mio personal best abbassando di circa un minuto il mio precedente record chiudendo a tre ore, venti minuti e rotti certo mi ha un po' bruciato non essere riuscito ad abbattere la barriera delle tre ore e venti però considerate tutte le difficoltà iniziali considerate anche tutte le incognite che mi hanno messo abbastanza in crisi mi prendo risultato del genere e me lo porto a casa proprio con un sorriso pieno poi è vero va considerato che non era un evento che richiama i top runner quindi non c'erano che gnoti o atleti proprio completamente fuori scala degli alieni quindi sono riuscito anche a posizionarmi abbastanza bene tra 1100 atleti che hanno tagliato il traguardo sono arrivato 147 assoluto ma la cosa che mi fa ridere di più in assoluto è che sono arrivato primo tra gli italiani in gara eravamo solo in sei comunque medaglia bellissima pure pesante questa la squagliamo e diventiamo ricchi ed è stata una di quelle esperienze che mi porterò sempre nel cuore per quanto riguarda invece l'utilità del DS vi devo dare una brutta notizia non solo non mi ha registrato il ritmo ma questa è colpa mia perché avrei dovuto scaricare i dati prima dei 7 giorni ma non l'ho fatto vabbè è andata così ma comunque il software riporta circa 32.000 passi registrati l'8 settembre il che è abbastanza impossibile e significa che di quanto ho corso ha registrato forse poco più della metà non so se l'ha permesso il podometro all'interno del giacchettino porta oggetti lo ha bloccato e quindi non ha fatto sì che registrasse il movimento corretto però considerato che basta fare così per vedere la luce che si accende quindi in teoria sta già registrando i passi mi sembra strano che avendolo messo non in tasca o non su una fascia d'abbraccio questo abbia compromesso la misurazione secondo me semplicemente non funziona poi così bene quindi sì è un contapassi ma in quanto contapassi potete farci affidamento fino a un certo punto quindi Nintendo DS vi aiuterà a correre una maratona? no lo consiglio per tenersi in forma lasciate perdere perché ad oggi il vostro cellulare molto banalmente con estrema facilità vi può fornire dati molto più utili e dettagliati rispetto a questo software del 2008 insomma sono passati pure un po' di anni quindi sì mettere in mezzo il DS è stata solo una grandissima scusa per parlarvi di questa mia avventura siete stati clickbaitati un'altra volta ora mi raccomando scrivete i vostri commenti indignati bravi grazie a tutti quanti per il supporto grazie a Shigeru Kachoppo per avermi accompagnato in questa trasferta per avermi sopportato durante dei mesi non proprio semplicissimi mi raccomando se siete interessati a scoprire di più sui miei allenamenti c'è Instagram vi lascio il link in descrizione come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo vi aspetto nei commenti ma prima del AAA finale vi lascio con la testimonianza più sincera e non filtrata di come mi sono sentito all'arrivo perdonate il video in verticale però questa clip per me vale più di tutto quanto il video editato voi comunque statemi bene ma soprattutto nerdate duro ciao 3.20 3.20 è bellissima ma difficilissima la gara piuttosta che abbiamo mai fatto ma è veramente emozionante è molto però bellissima la gente è super carina è stato veramente un'unica da piacere ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon il Patreon dei Poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa Grazie per aver guardato il video